Buongiorno cari amici e bentornati a un altro video di espressioni inglesi per italiani. Sono stato fuori a Londra per trovare una mia carissima amica con cui ho lavorato in Sicilia, a Catania e per la prima volta l'ho trovata nella sua dimora a Londra ed è stato molto bello. Però è stato un po' difficile all'inizio trovare la mia strada, indirizzarmi perché non conosco benissimo Londra e questo dà via all'espressione di oggi, la quale è to get the hang of it, ovvero prenderci la mano. Quindi all'inizio è stato difficile orientarmi a Londra ma poi ci ho preso la mano. In inglese noi diremo Un altro esempio con questa espressione potrebbe essere e ora sto cominciando ad imparare il francese e lo trovo difficile. Ma man mano sto cominciando a prenderci la mano. Quindi I'm learning French at the moment and I'm finding it difficult but little by little, step by step se preferite I'm getting the hang of it. Va bene ragazzi questa è l'espressione di oggi spero che vi troviate bene come sempre e ci vedremo un'altra volta domani vi avverto che vado a Pembroke per una settimana per passare un po' di tempo lì con la famiglia, con i parenti quindi non so se riuscirò a fare più video ma vabbè vediamo cosa si può fare Va bene alla prossima, ciao ciao!